La gara della Sendoria della Coppa di... Un'estate di promesse, vittorie ingannevoli e proclami azzardati, l'impatto con la realtà del calcio vero ha accolto molte di sorpresa. Soltanto il Milan, bello, elegante e superiore in qualsiasi circostanza, ha esordito nella Coppa dei Campioni con un'altra prova convincente. Il 2-0 perentorio firmato Virdis Gullit, con il quale la formazione di Sacchi ha superato a Sofi all'ostacolo del Vitocia, appare addirittura normale in considerazione della potenzialità espressa dai rossoneri in altre recenti occasioni. Il Milan è una sicurezza di giorno come di notte, a qualsiasi latitudine e longitudine. Chi l'ha vista trionfare nella tana del Real Madrid, colto da un attimo di esaltazione, l'ha definita la squadra di club più forte del mondo. E forse non è fantasia. Nella Coppa delle Coppie...